ma simona non ne posso più ho un sacco di malanni a rotazione ma non ne cavo piede mal di testa pancia gonfia stanchezza poca concentrazione cosa mi sta succedendo mi dispiace e lo so che questo non ti consola ma moltissime persone mi scrivono per i tuoi stessi motivi e a volte anche per me un vero rompicapo capire quali sono le cause ma la naturopatia ci viene in soccorso con una visione olistica che guarda tutto il corpo allora amici oggi vedremo che può esserci una unica causa insospettabile per tanti disturbi comuni la digestione l'intestino il metabolismo l'energia se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video simona mi terrorizzi ma cos'è è la candida ma io non ho i sintomi della candida quelli no la candida non si manifesta solo con perdite vaginali e prurito può assumere forme meno evidenti con sintomi intestinali o anche apparentemente non collegati secondo le statistiche la candida rappresenta dal 50 all'80 per cento delle cause di molti disturbi comuni a seconda di età sesso e stile di vita un bel problema e perché viene la candida è un innocuo microorganismo che si trova naturalmente nel nostro corpo convive bene con la flora batterica rimane tranquillo fino a quando l'ambiente intestinale si altera a causa di alimentazione squilibrata eccesso di zuccheri alcol farine bianche metalli tossici medicinali tutto ciò che acidifica l'intestino e allora cambia forma da lievito diventa un fungo patogeno con filamenti che proliferano e dall'intestino riescono a disturbare l'organismo intero ed ecco che iniziano i disturbi questo è quello che sostiene la naturopatia e che ho riscontrato in 30 anni di esperienza ma tu come sai tutte queste cose ma io leggo libri sì ma con la cultura non si mangia e figuriamoci con l'ignoranza il modo migliore per riconoscere e combattere la candida è questo libro candida la vera causa di molte malattie della casa editrice il punto d'incontro specializzata in salute e benessere naturale e sponsor di questo video pensate che l'autrice anne borough racconta di essersi curata dalla sclerosi multipla dopo avere individuato la causa nella candida il libro ci fa una promessa un programma di 90 giorni per sconfiggere la candida e avere una salute di ferro ci sono i test per verificare il proprio grado di intossicazione da candida gli schemi sui cibi da evitare e quelli da assumere e le ricette giorno per giorno gli integratori consigliati i consigli sullo stile di vita e i modi per individuare le abitudini più dannose e ovviamente le abitudini benefiche per restare sempre sani e liberi dall'infestazione della candida non è bellissimo descrive tutti i sintomi che ci aiutano a riconoscere in noi la presenza della candida anche in assenza delle fastidiose perdite bianche per noi femminucce e del prurito e irritazione costante delle parti intime per i maschietti alcuni dei sintomi fantasma della candida sono questi prima di elencarli vi ricordo iscrivetevi attivate le notifiche e abbonatevi al canale come stanno facendo molti amici trendy e sani che vogliono riconoscere il mio impegno per la salute naturale di tutti ecco i sintomi mal di testa pesantezza stanchezza poca concentrazione intolleranze a certi cibi voglia costante di zucchero ipoglicemia pancia gonfia meteorismo alito cattivo stipsi o episodi diarroici alternati perdita di appetito debolezza dolori sinusite allergie fino a ansia depressione e sbalzi di umore pensate sono convinta che ognuno di noi dovrebbe fare il test descritto nel libro la maggior parte scoprirebbe che sarebbe proprio utile seguire i tre mesi di pulizia e depurazione descritti qui tra l'altro è scritto in modo facile da leggere facile da seguire e con grande competenza le persone a cui ho consigliato di farlo mi hanno raccontato di essere state molto meglio in soli tre mesi hanno risolto tanti problemi che non erano riuscite a debellare da anni ma perché non risalivano alla giusta causa leggete il libro è indispensabile conoscere le informazioni e le soluzioni che propone e se poi volete un consiglio personalizzato contattatemi pure per una consulenza sono disponibile bene condividete questo video può essere la soluzione per i disturbi di molte persone e restate connessi noi ci vediamo presto con un altro video sempre più trendy e sano naturalmente ciao